Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast ed eccoci al nuovo processo, la tappa, tappa numero 17 con un arrivo in volata. La tappa era la fiera di premiera o Padova, tappa piana con soli 550 metri di slivello e era la penultima volata che i velocisti, dopo tutte le montagne che hanno affrontato in questi giorni non vedevano l'ora di affrontare, ma prima di andare a vedere tutto quello che è successo oggi vi ricordo di mettere un bel like e iscrivervi al canale, a voi non costa niente, è gratuito ma per me può fare una grande differenza e io vi ringrazio in anticipo, ma non vi rubo altro tempo andiamo a vedere quello che è successo oggi. Tappa tranquilla, alla fine abbiamo visto davanti quattro fuggitivi, il solito Pietro Bon della Polticometa, mi fa molto piacere vederlo là davanti assieme a lui della Polticometa c'era anche Mirko Maestri, poi c'era Michael Honoré del team EF e Fiorelli della Bardiani, anche lui un altro volto noto all'interno di questo Giro Italia ma come tra l'altro anche Mirko Maestri. Questa fuga che ha caratterizzato la gara di oggi ma le squadre dei velocisti non hanno voluto farli prendere troppo vantaggio perché li hanno sempre tenuti sul minuto, minuto e mezzo all'incirca quindi si sapeva che i velocisti ci tenevano a questa tappa, ha tirato praticamente tutto il giorno la Lidl Trek di Jonathan Milan e cosa è successo? Niente, davanti c'erano i quattro fuggitivi dietro il gruppo che controllava ai meno 50 km parte un uomo dal gruppo, un uomo delle EF è strano perché l'EF davanti c'era comunque Michael Honoré e parte lui, viene ovviamente rincorso da un uomo della Lidl, chiude subito il buco e subito dopo di loro parte in contropiede Edoardo Fini della Visma Lisa a bike e provano ad inseguirlo ma fa un bel attacco e riesce a uscire fuori dal gruppo e riesce a riprendere i quattro fuggitivi mancano 50 km dall'arrivo, hanno 30 secondi di vantaggio e hanno provato in tutti i modi a resistere al gruppo, ma in meno 10 km il gruppo senza problemi, quasi, fa chiudereci i fuggitivi e quindi si chiude questa gara in volata come immaginavamo questa gara si chiude in volata e i velocisti stanno scalpitando per prendere le posizioni migliori perché fino agli 800 metri è praticamente una strada tutta dritta, però dagli 800 metri i corridori dovranno affrontare due curve Occhio perché questa non è una cosa sottovalutare perché quando arrivi una strada tutta dritta più di 10 km dritti senza curve dove devi solo cercare di tenere la posizione e poi ti trovi due curve, un po' ti scompiglia la volata e quindi la volata diventa un attimo mossa arriviamo là davanti con gli uomini di classifica che fortunatamente erano tutti dietro e non ci sono stati problemi, anzi in meno 10 km all'incirca Timen Haresmann ha avuto un problema ha cambiato la bici, ha preso quella del compagno di squadra e in poco poi è riuscito a rientrare all'interno del gruppo, quindi non ci sono stati problemi per Timen Haresmann dopo quel cambio di bicicletta arriviamo agli ultimi chilometri quando ci sono le squadre dei velocisti davanti si mette davanti il Tim Alpesin che oggi non aveva tirato per avvantaggiare Caleb Gross la Lidl Trek è sempre perfetta negli ultimi chilometri però Milan è leggermente un attimo dietro ci troviamo all'imbocco della prima curva ai meno 800 metri prima curva, seconda curva, escono in testa perfetti anche oggi Lidl Trek il problema è che quando si girano con Sonny non trova Jonathan Milan che era all'incirca 10 posizioni dietro dietro di loro c'era Cimolai che doveva far far la volata a Fernando Gaviria la situazione è stata questa, i due davanti si spostano, non c'è nessuno e si fermano leggermente quinta posizione c'era Dainese che era il mio uomo che vi avevo detto ieri che era il mio favorito di giornata perché correva in casa e ha scorso questo giro tappa dopo tappa migliorando sempre di più si trova davanti Cimolai che prova a far la sparata per avvantaggiare Gaviria dietro c'è Dainese che prova a partire lungo e proprio questa cosa non l'ha avvantaggiato perché poi si è leggermente impiantato da dietro arrivano come i caccia Tim Merlier che va a vincere la sua seconda tappa in questo Giro d'Italia e dal nulla poi sbuca anche Jonathan Milan che chiude in seconda posizione con un rimontone assurdo sicuramente se era a ruota di consonni all'ultima curva avrebbe vinto la quarta gara in questo Giro d'Italia Jonathan Milan perché è molto forte rispetto agli altri velocisti in realtà oggi negli ultimi 100 metri è stato più esplosivo Tim Merlier però dobbiamo calcolare che Milan ha dovuto rimontare dalla decima, quindicesima posizione che era fino alla seconda per poi sprintare negli ultimi 100 metri Tim Merlier invece era posizionato meglio in terza posizione poi è arrivato Caleb Gross e in quarta posizione come vi ho detto prima Alberto Dainese questa è la classifica della top 10 di oggi ed ora però andiamo a vedere la tappa di domani la tappa numero 18, la tappa del venerdì la penultima tappa dura di questo Giro d'Italia è dura, non durissima come quella che abbiamo visto ieri sarà la Mortegliano-Sapata a 157 km e 2850 metri di dislivello non dobbiamo farci ingannare da questi numeri che sono più bassi rispetto ai 4000-5000 metri di dislivello che c'erano i giorni scorsi perché è la penultima giornata dove gli uomini di classifica devono battagliare per ottenere la posizione migliore in classifica e qualcuno sarà sicuramente stanco quindi qualcuno che salta io me lo immagino e poi essendo un po' più facile diciamo a livello artimetrico c'è qualche metri di dislivello in meno potrebbero affrontare anche i corridori la tappa ad una velocità più alta e quindi se uno salta può perdere anche di più quindi non è da sottovalutare questa tappa anzi soprattutto perché la vediamo dal punto di vista altimetrico la prima parte è abbastanza piatta e poi le salite le troviamo tutte alla fine molto simile alla tappa quella che si è corsa martedì la tappa accorciata del martedì perché senza calcolare la prima parte dello stellio alla fine è diventata una tappa molto bella da vedere molto combattuta e domani mi aspetto una gara di questo genere secondo me andrà via la fuga anche domani e se devo dirvi un favorito domani visto che è una gran gamba e in questo Giro d'Italia sta andando fortissimo si è ritrovato Julien Alaphilippe io me lo aspetto e in realtà ci spero anche che chiude questo Giro d'Italia con due vittorie di tappe scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate e scrivete qual è il vostro favorito per la tappa di domani ora non chiudiamo il video perché andiamo a vedere velocemente cosa è successo al Giro di Norvegia oggi mi sono messo a registrare un po' più tardi il processo della tappa perché c'era il Giro di Norvegia anche una gara comunque carina che a me piace vedere quindi finito il Giro d'Italia mancavano circa 25 km al Tour of Norway me li sono guardati e a vincere è stato Thibaut Nys Thibaut Nys che è il figlio di Sven Nys figlio d'arte Sven Nys che è una leggenda del ciclocross Thibaut anche lui è molto forte nel ciclocross ha vinto da Juniors campionati del mondo della specialità anche da Anders se non mi ricordo male in questi ultimi anni sta correndo con gli Elite contro Van Der Poel è uno tra i più forti al mondo ma oltre al ciclocross sta andando anche molto bene su strada la squadra del padre perché gestita dal padre la squadra di ciclocross dove corre è la Valois Trek e essendo la squadra di Trek ha in comune la Lidl Trek quindi lui d'estate corre poi con la Lidl Trek questa cosa è molto bella da vedere nei team per la multidisciplina perché tanti team che troviamo nel ciclocross o nella mountain bike poi possono far correre corridori sia da una parte che dall'altra ci sono anche tanti altri esempi tipo Koreczky in realtà non quest'anno ma lo scorso anno correva su strada con la Bora e in mountain bike con il team Factory di Special Rail Tibor non fa mountain bike fa solo strada d'estate ed inverno però nel ciclocross con la Valois Trek e in seconda posizione dovrebbe essere arrivato Axel Lorrain vi lascio guanato a sinistra il video se volete rivedervi l'arrivo di questa gara molto interessante e detto questo spero che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di dare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e non dimenticatevi di lasciare anche un bel like e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima